Incidente mortale questa notte, domenica 11 febbraio, poco prima del lune 30, sulla strada provinciale 460 all'altezza delle curve di Boira, tra Ponte e Cornier. A scontrarsi due vetture, un Peugeot 206 con a bordo due ragazzi e una Lancia Y con all'interno tre persone. L'impatto è stato violento, il Peugeot 206, che viaggiava in direzione Cornier, ha invaso l'altra corsia e dopo l'impatto ha fermato la sua corsa contro il guardrail, mentre la Lancia Y, che proveniva dalla direzione opposta, dopo aver carambolato, si è fermata contro il Peugeot. Sul posto sono prontamente intervenuti la crociarossa di Castellamonte e il soccorso del 118, i vigili del fuoco di Vrea e Cornier, i carabinieri di Cornier e il nucleo radiomobile. I vigili del fuoco hanno immediatamente tagliato il tetto del Peugeot, ma purtroppo poi i due ragazzi, di 19 e 23 anni, entrambi di Ponte, non c'è stato più nulla da fare. I sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Soccorso anche la famiglia che si trova a bordo della Y, due occupanti sono stati ieri trasportati al CTO. Soltanto contusa è la terza persona, figlia della coppia, che è stata medicata in ambulanza e trasportata a punto soccorso. La dinamica e le cause dell'incidente sono al valio dei carabinieri. Le salme dei due giovani sono state portate in camera mortuaria a Cornier. Le salme dei carabinieri sono stati i carabinieri. Le salme dei carabinieri sono stati i carabinieri.